Salviamo la pineta di Roio è la proposta lanciata su Facebook dallo psichiatra aquilano Walter Marola che sta riscuotendo grande successo. L'idea è quella di creare un'apposita pagina Facebook per lanciare proposte, idee e progetti, un luogo virtuale per incontrarsi, ma poi per fare delle cose materiali per salvare appunto la pineta. Tutto nasce da un cartello che recita a sosta consigliata di massimo 4 ore dietro, come è noto ci sono i tralicci delle antenne di radio, tv e telefonia. Si parla da tempo del problema dell'inquinamento delle onde elettromagnetiche, pericolo reale però suggerimento, il cartello dice tutto e dice niente per questo l'indignazione di Marola. Io frequento un po' la pineta, vado sempre con il mio cagnolino e quando ho visto questo cartello che è comparso nell'ultimo periodo ed è un cartello che raccomanda a tutti quanti in maniera indiscriminata di tenersi oltre un certo periodo di tempo, di tenersi lontani da quell'area, sono rimasto piuttosto perplesso perché ovviamente un cartello di questo genere a mio modo di vedere non aiuta sicuramente le persone a capire. Si deve dire chiaramente ai cittadini se l'area può essere riqualificata, visto anche il degrado documentato dalle nostre telecamere, oppure deve essere un'area interdetta. Un polmone verde, la pineta più grande che abbiamo, che non può essere dimenticata così, è stata lasciata in ombra completamente dalla ricostruzione. Le onde elettromagnetiche sicuramente possono rappresentare un problema ma noi abbiamo il diritto di saperlo, non con dei cartelli che lungi da tranquillizzare non fanno altro che evocare ulteriori angosce e paure e quindi far aumentare l'abbandono del luogo. Questo è un po' in estrema sintesi. Per cui io quello che posso fare molto semplicemente è dal basso radunare le persone, cercare in futuro piccole alleanze con altre istituzioni, penso a FAI, penso a Rotary, penso alle associazioni cittadine. Questo è un bene collettivo. è un bene che noi non possiamo, nei confronti di qua, non possiamo restare inerti. Sta veramente a cuore, e devo dire che le persone hanno risposto col cuore, perché non ci sono interessi, non ci sono dietrologie, non ci sono quelle cose che magari servono anche. Faccio un esempio, io mi sono fatto un'idea, non polemizzo, non voglio polemizzare, che ci sia un enorme conflitto di competenze, non tanto, forse anche di interessi, tra vari enti e istituzioni per cui la nave si è fermata.